www.redigio.it e la storia continua Uomini in travaglio Attestato già nel Medioevo, un antico rituale in cui il marito, durante la gestazione, il parto e il periodo successivo, simula dolori e atteggiamenti propri della donna. Ma qual è il senso di questa curiosa usanza? Cappuccetto rosso e il lupo La gravidanza del re Identificazione incrociata Mater certa est E' un vuoto di memoria Un amore contrastato Cos'è la canta favola? Il romanzo di Alessandro Un recente spot televisivo di una nota marca di automobili Racconta della corsa di un uomo e di una donna all'ospedale A più riprese si vede l'uomo in stato di agitazione Mentre asciuga il sudore della fronte come se stesse soffrendo di qualche improvvisa e dolorosa infermità Mentre l'auto sfreccia sicuro e veloce verso la meta guidata dalla donna Giunti davanti all'ospedale L'intreccio si scioglie Quando lei, con un pancione sul punto di partorire Ferma l'auto e con passo deciso si avvia verso i medici perplessi Con una borsa sulla spalla Si presume con il necessario per l'imminente ricovero Lui rimane fuori, ancora ansimante, mentre si asciuga il sudore Capuccetto rosso e il lupo In apparenza, l'idea originale dello spot sta in quella buffa inversione dei ruoli Dove lei virilmente affronta una situazione difficile Mentre lui accusa indisposizioni e ansie che dovrebbero appartenere, nella nostra cultura, alla sua compagna Eppure, in questo spot, si è celata una visione del mondo molto più antica dei pubblicitari che l'hanno ideato A pensarci bene Ricorda un po' un pezzo di una fiaba già sentita altre volte Anche se lontana e camufata Capuccetto rosso Psicanalisti come Fromm o altri hanno spiegato risultati profondi della semplice storia di una ragazzina Con un copricapo rosso che va a trovare la nonna Mostrando i conflitti uomo-donna E il processo di maturazione sessuale della donna che vi sono celati Il fatto che il lupo stia a letto con la pancia piena Inoltre, potrebbe essere visto come un processo di usurpazione del ruolo femminile Da parte di un rappresentante dell'altro sesso L'animale maschio, travestito da donna, vorrebbe impadronirsi di un potere uterino interdetto al suo sesso Entrambi gli episodi, lo sport e la fiaba Hanno in comune e sottendono un ambito di credenze e di usi Diffusi in tutto il mondo E di grande antichità Siamo in presenza di un rituale conosciuto dagli antropologi Come il nome di Cuvade Da francese Cuvée Cuvare Genericamente è una sorta di psicodramma culturale In cui il marito, durante la gravidanza, il parto e il periodo seguente Simula sintomi, dolori e atteggiamenti che dovrebbe avere la donna Inoltre, mentre questa, dopo il parto, riprende immediatamente le sue normali attività L'uomo diviene centro di una serie di attenzioni rituali Che provvedono l'astinenza alimentare, sessuale e talvolta la segregazione in casa sua o in quella degli uomini Per diverse settimane La gravidanza del re L'usanza non appartiene soltanto alla letteratura etnografica Visto che la riscontiamo abbondantemente anche in quella medievale Qualcosa di simile è riportato nella contafavola Aoccasen e Nicolet del XIII secolo Quando i due protagonisti giungono nel regno di Tore-Lore Si recano al castello del re per poter fare la sua conoscenza E quale non è il loro stupore Quando vengono a sapere che il sovrano giace a letto Mentre la sua moglie è in battaglia Aoccasen non ha indugi Per vederci chiaro si porta la camera del re E vedendolo realmente a letto come indisposto Gli chiede cosa stia facendo Questi, semplicemente, gli risponde Che è in attesa di un figlio Quando sarà compiuto il mese? Analoga usanza Incontrò Marco Polo nella provincia di Ardamdan La terra degli uomini con i denti d'oro Popolo di guerriere e cacciatori Tributario del Gran Can Qui, quando alcuna donna ha fatto il fanciullo Lo marito sta nel letto 40 die E lava il fanciullo e governalo E tutti gli amici vengono a costui al letto E fanno grande festa insieme E la moglie si leva dal letto E fa le bisogni di casa E serve il marito nel letto www.redigio.it E la storia continua